Ma il 21 è anche l'anno in cui esce il notturro di D'Annunzio e qui incontriamo quest'altro personaggio che ha fatto la guerra. Ha perso un occhio in guerra. Non l'ha perso eroicamente, l'ha perso perché Notturno era il racconto di un soldato un po' speciale. D'Annunzio quando entra in guerra è oltre cinquantenne. Entra perché? Perché a Cadorna occorreva un personaggio noto che dimostrasse la necessità dell'interventismo. D'Annunzio aveva avuto un ruolo importante nella storia perché nel maggio del 15, quando né il re né il primo ministro avevano avuto il coraggio di dire all'Italia che saremmo entrati in guerra presto, l'aveva fatto D'Annunzio. D'Annunzio aveva inaugurato a Quarto dei Mille il monumento a Garibaldi e nell'inaugurarlo aveva fatto una specie di parodia del discorso della montagna delle beatitudini dicendo beato il soldato che andrà a combattere si significherà eccetera eccetera e in pratica aveva detto che tra poco l'Italia sarebbe entrata in guerra. D'Annunzio era un interventista, farà il soldato tra i lancieri di Novara in un reparto di fanteria ma soprattutto farà una sua guerra speciale, da lui non ci si poteva aspettare una guerra non speciale il culto della bella morte, cioè io combatto per vivere eroicamente, morire ancora più eroicamente lo aveva attanagliato. E allora D'Annunzio cosa fa? Non fa il soldato semplice come Ungaretti, fa un soldato extra e quindi si imbarca sulle navi ma soprattutto ha la passione degli aerei. Ma questo è un altro discorso interessante perché quando l'Italia entra in guerra ma anche l'Austria non esisteva un reparto di aviazione, c'erano pochi aerei in realtà e questi pochi aerei venivano utilizzati unicamente per compiti di ricognizione dall'alto, per gettare dei manifestini propagandistici, ma non si intendevano come strumenti di guerra perché? Perché erano molto precari, avevano dei limiti, il pilota non poteva pesare più di 70 kg, c'era un solo pilota e non poteva alzarsi più di una certa quota e quindi servivano a poco. Però un po' alla volta ci si rende conto della loro utilità e D'Annunzio è nettamente interessato a questa nuova espressione originale e bizzarra e sarà per lui che si riuscirà a costruire il biposto, quindi ci sarà il pilota e nel caso di D'Annunzio un viaggiatore che lanciava manifestini e nel caso invece di chi usa l'aereo anche come oggetto militare del mitragliatore, di colui che lanciava delle bombe e quindi abbiamo un D'Annunzio favorevole all'impiego degli aerei che poi diventeranno anche un'importante forza militare e nel corso di un ammaraggio nella laguna di grado il pilota sbaglia la manovra, D'Annunzio urta con la tempia un montante dell'aereo e l'occhio rimane danneggiato e poi sarà irrecuperabile. In questo periodo in cui viene operato all'occhio e l'altro viene bendato e scrive a memoria su delle listelle di carta ciò che la guerra gli ha ispirato. Qualcuno dice, direi anche abbastanza ragione, D'Annunzio è entrato in guerra come superuomo e ne è uscito come uomo perché in ogni caso ha conosciuto la realtà. Vorrei dire subito che la presenza di D'Annunzio però viene vista molto negativamente dagli altri soldati. Proprio Ungaretti in una lettera a Mario Cuccini gli domanda appunto di non fare il corso allievo ufficiale e di meritare per quello che ha fatto finora delle attenzioni. Le stesse attenzioni che sono invece regolarmente rivolte ad Annunzio che viene definito questa eterna modella col suo fotografo che lo segue ovunque, col drappo della bandiera in mano per declamare chissà quali versi, questa eterna modella che mentre i soldati muoiono lui fa la passerella davanti a chi può immortalarlo. Ecco, D'Annunzio è stato questo, è stata l'altra faccia della guerra, l'altra faccia del fare il soldato. Escono in questi anni anche libri di memorialistica. Ve ne voglio indicare uno e vi voglio anche ripetere una frase. Questo libro si intitola Introduzione alla vita mediocre. La vita mediocre è quella del tempo di pace, che non è una vita mediocre ma lo è per chi ha combattuto. Questo libro è un libro interessante perché racconta il ritorno del protagonista che si chiamava Arturo Stanghellini nella sua città Bologna. Incontra i suoi compagni di studio che gli dicono io ho pubblicato, io ho fatto il concorso, io ho vinto la cattedra, tu cosa hai fatto? Ma io ho fatto la guerra. Ah vabbè hai fatto la guerra. E poi incontra una signora e anche questa signora oh quanto tempo, non ti vedevo. E cosa hai fatto? Io ho fatto la guerra, gli racconta gli episodi e dopo aver raccontato anche i rischi, i corsi, le avventure, le vicende, questa signora gli domanda ma adesso Arturo ti metterai a fare qualcosa? Ecco cosa significa questa domanda? Significa che il paese in sostanza è estraneo alla guerra. Ti metterai a fare qualcosa? Finora non hai fatto nulla. Sì hai fatto la guerra ma cos'è questo? Devi fare carriera, devi sposarti, devi avere i tuoi titoli. Ecco questa era anche la guerra da questo osservatorio veniva esaminata.